Sono tanti migranti che dormono sui box a Piazzale Nettuno. Dormono all'aperto, poi quando si spostano al mattino lasciano sui tetti, senza alcuna difficoltà, i loro materassi. Siamo nel 2020 e sembra quasi impensabile che, nonostante sia sotto gli occhi di tutti questa situazione, non si intervenga per un decoro anche della città di Crotone. I commercianti del mercato di Piazzale Nettuno non possono fare nulla. Dobbiamo dire che si potrebbe, in ogni caso, attivare una politica diversa, con la possibilità di aprire dei centri in zone dove ad esempio ci sono case abbandonate e beni sequestrati, per creare condizioni adeguate dormitori per i migranti. L'immagine che viene fuori da questa presenza sui box è un'immagine da altri tempi. Siamo nel terzo millennio e non si riesce a mettere in pratica un servizio che tolga da quest'area persone disagiate? Restituire anche la zona ai commercianti e ai crotonesi? Sembra quasi un secondo appuntamento della profezia di Pasolini. Una situazione sempre più difficile anche perché vi sono quelli che addirittura dormono per strada vicino ai cassonetti della spazzatura. Parliamo di gene, di contagi, ma non ci rendiamo conto che probabilmente anche una situazione più dignitosa per i migranti sarebbe un passo in avanti per la nostra città. Ci sono dei dormitori per loro ma i posti sono molto pochi e alla fine la maggioranza dorme per strada e sono tanti quelli che dormono sui box di piazzale Nettuno. Mal tempo, freddo, pioggia, non cambia nulla. Tutto va avanti così da diversi anni e sono persone diverse ma il numero degli ospiti dei tetti cresce e non diminuisce. Dobbiamo ricordare che non ci sono bagni pubblici e dunque se parliamo di una città pulita diventa difficile crederci. Per non parlare degli escrementi dei cani puntualmente lasciati per strada, quasi a voler ribadire che non cambia niente. Siamo fermi su quelle tradizioni che ci rendono cittadini che non accettano le regole e proseguono con indifferenza su un percorso che ci allontana dalla civiltà.